... Molti adesso ci apprezzano perché abbiamo ricostruito, ma è sicuro che quando poi si ci è, bisogna fare, il coraggio non si trova, se non c'è... Nelle parole di Rodolfo Barbieri c'è tutta la concretezza emiliana a fronteggiare i danni del terremoto del 2012. In pochi mesi un'azienda leader del Made in Italy Alimentare ha rimesso in piedi edifici e produzione, dando in là a una ricostruzione del tessuto sociale e imprenditoriale, assunta a modello di efficienza e rapidità. Mi diceva che qui davanti un capannone cronò e ci furono quattro morti laggiù. Dove c'è adesso quel piazzale vuoto? Un ricoglioso tessuto produttivo fu piegato da due scosse sismiche disastrose il 20 e 29 maggio di quattro anni fa, 27 morti e 28 mila senza casa, epicentro Mirandola, Medolla e San Felice sul Panaro. Tutti i comuni maggiormente colpiti dal sisma, Mirandola, Finale Emilia, Concordio, San Felice sul Panaro, hanno dovuto realizzare questi petti di città, questi quartieri pubblici dove sono state realizzate le nuove strutture antisismiche di scuole, palestre, biblioteche che normalmente erano collocate nel centro storico delle città. Meno rapida la ricostruzione di edifici e centri storici. Perché? Perché abbiamo delle diversità di interpretazione delle norme, noi progettisti e la struttura commissariale. Noi ragioniamo sull'esperienza avuta nei sismi precedenti, loro ragionano sulle ordinanze e sui decreti ministeriali. Tenete conto che qui il 29 di maggio del 2012 era tutta zona rossa, su 600 edifici 400 erano danneggiati, parliamo del centro storico. Possiamo dire che da allora in 4 anni il 50% delle persone sono ritornate ad abitare in centro storico e il 50% delle attività, servizi, ha ripreso il funzionamento. La grande fragilità del nostro paese è condensata in questa mappa sismica. Con danni per 12 miliardi di euro, l'Emilia-Romagna, come si vede, non è neanche fra le più esposte d'Italia. Quelli più pericolosi sono i territori coi colori più scuri e fanno emergere una spina dorsale della penisola, quanto mai debole. Si chiama mappa di pericolità per l'appunto ed interessa tutta la catena peninica centro, meridionale, l'arco Calabro, la Sicilia sudorientale e l'Italia nord orientale, ma si può vedere che tutto il territorio nazionale ha dei valori di scottimento attesi che rendono potenzialmente possibile in qualunque comune italiano un danneggiamento da terremoto, di livello naturalmente molto diverso da territorio a territorio. Da storico dei terremoti, il dottor Camassi si sofferma sulle pressioni fatte dai comuni per uscire dalla mappa del rischio elaborata dopo il terremoto di Messina del 1908. Ma quali sono le fragilità più gravi da fronteggiare oggi? Qui vediamo una casa costruita nella prima periferia di Bologna. Non spaventatevi, non è crollata per il terremoto. Qui quello che sostiene l'edificio sono proprio i mattoni messi uno sopra l'altro, i mattoni che vanno fondamentalmente a circondare tutta la casa e realizzare una specie di scatola. Una tipologia di case che… A grandi linee rappresenta il 50% del costruito che abbiamo noi in Italia. Qui alla nostra destra vediamo invece un edificio realizzato indicativamente attorno agli anni, negli anni 70, dove potete riconoscere quelli che sono i pilastri. Sono di pilastri in cemento armato, cambia quindi completamente la struttura ed il modo di reagire ad un terremoto. Tutte queste case che vediamo attorno a noi sono tutti edifici non progettati sismicamente. Serve una gigantesca opera di adeguamento sismico e di prevenzione decennale in un paese fragile. Il paese fragile vuol dire che il concetto di rischio zero non esisterà mai da noi. Quello che vogliamo fare è da un lato ridurre questo rischio, cercando quindi di evitare i problemi, dall'altro ridurre l'impatto che i fenomeni che si verificheranno in futuro potranno avere sulle nostre vite. Indicato dal Premier Renzi come Project Manager di Casa Italia, il Professor Azzone lavorerà assieme all'architetto e senatore a vita Renzo Piano, con l'obiettivo di standardizzare i modelli di adeguamento antisismico, partendo da edifici pubblici e scuole. Una delle idee di Renzo Piano è proprio quella di portare le idee progettuali in alcuni esempi, in alcuni cantieri reali che facciano vedere come si può intervenire su una scuola, su un edificio in muratura, su un edificio in cemento armato, per rendere reale questo senso di intervento leggero, ma compatibile con le necessità. È un progetto che deve toccare 60 milioni di italiani, non chi vive nelle zone che hanno già sperimentato dei terribotti. Sul campo il modello emiliano oggi offre più di uno spunto su quanto sarà indispensabile fare presto in tutta Italia, come il Fondo di Solidarietà finanziato da lavoratori e aziende. Sono stati raccolti 7 milioni e 7, con un sistema molto interessante che credo ripeteremo che è quella di un'ora di lavoro del lavoratore raddoppiata dall'azienda, ma credo che ancora più interessante sia il risultato pratico sul territorio di questo denaro raccolto. Abbiamo utilizzato le gare d'appalto anche se non era previsto, proprio perché cercavamo la massima trasparenza nel processo, come si dice, di investimento, investendo nell'innovazione nel sociale, soprattutto nel rapporto con le istituzioni e nel rapporto con la popolazione rispetto a quelle che sono le opere che noi andiamo a costruire, che sono un'esigenza per quel che riguarda il territorio. Ci siamo concentrati sulla ricostruzione del tessuto sociale, che è la parte più difficile nel post-terremoto e quindi risposte agli anziani, ai giovani, al tempo libero, che sono per noi elementi essenziali. Ci tengo a dire però che abbiamo fatto degli oggetti belli, fruibili, utili alla popolazione, ma che si inseriscono bene nel territorio dove sono stati creati e sono veramente gradevoli anche da vedere e ovviamente molto sicuri. A Pieve di Cento prende corpo così uno dei cinque progetti finanziati dal Trust Nuova Polis Onlus, costituito da Confindustria, sindacati confederali e Confservizi. In questo caso questa è la casa della musica, che si completa a fianco di una scuola media superiore, che è una scuola a indirizzo musicale, che non aveva questi spazi necessari per i ragazzi per studiare la musica. Quindi la ricostruzione è stata un'occasione di riflettere sulle mancanze, su quegli elementi che avrebbero comunque potuto aiutare a migliorare la qualità, in questo caso educativa artistica, che è una cosa straordinaria. A Mirandola i contributi dei cittadini sono stati utilizzati per realizzare un centro di urno destinato agli anziani, consorziando nove comuni dell'area nord di Modena. Una struttura che è nata nel corso dell'anno del 2013, l'abbiamo inaugurata nel novembre del 2013 e il servizio è incominciato nel gennaio del 2014. Quindi è stato tutto molto rapido? Assolutamente, in sette mesi abbiamo costruito questo servizio. Gli alti standard di sicurezza sismica e di qualità architettonica necessari a cambiare passo inducono a riflettere su un nodo già al pettine, nei cantieri da aprire ad Amatrice e negli altri centri colpiti. Bisogna fare delle gare dove l'elemento fondamentale per la ricostruzione non sono il prezzo, ma è la qualità del progetto, la qualità delle imprese. Ecco, se questi fattori si invertono, quindi il prezzo vale più della qualità, noi la partita non la vinceremo. Perché questa è la sfida, no? la fragilità come un'opportunità. E lì allora il paese si mette in moto.